Anche lei vive nella paura. Cosa ti è successo Marte? Che cosa provi, cosa senti quando ascolti storie come quelle che stiamo raccontando di altre donne? Una donna, quella di Sansevero, ha perso la vita. Abbiamo ascoltato la testimonianza delle figlie, fortissima. Io ho denunciato ad aprile del 2022 e dopo un mese e mezzo ho ricevuto il braccialetto, insomma il dispositivo. Cosa faceva lui? Lui ha fatto di tutto, ogni tipo di violenza. Mi ha sequestrato in casa, anche con i genitori. Sono stata perseguitata anche successivamente alla denuncia. Non so se si sente bene l'audio, me lo dovete dire voi, se no lo avvicino io al microfono senza che lei si tolga la sciarpa. Si sente bene, perfetto. Sono stata perseguitata anche dopo aver denunciato e mi sono ritrovata lo stalker dieci volte circa. Il dispositivo non ha mai suonato, mai. Mi sono ritrovata la polizia in casa. Mi sono ritrovata lui davanti e il tuo dispositivo non suonava? Anche sotto casa, mentre portavo a spasso il cane. Sono ritrovata lui a 100 metri. Non ha suonato. Mi permetto che il suo caso, lui è un seriale, perché io ce le ho tutte e quattro le ragazze, ne abbiamo incarico tutte e quattro. Lui è un seriale e l'ultima volta per l'ultima vita mi abbiamo fatto chiamare. L'hanno portato, il magistrato di turno ha detto, beh no aspettiamo il magistrato ordinario. Lui è violentissimo, è dichiarato pelicoloso socialmente, lei è la terza su quattro. Lui è un seriale, ancora a piede libero. E sta fuori. E sta fuori. Bene. E questo è il dispositivo di Marta che non funziona. Ma scusa, io ho sentito suonare adesso. Sì no, suona, però ti dice che non c'è il GPS. Perché non prende? Mai, neanche fuori, ovunque tu vada non c'è il GPS. Anzi mi ritrovo in situazioni scomode, dove suona il cinema, non prende. Cioè per dirti, adesso questo apparecchio sta suonando. Perché suona? Perché cerca la linea, il GPS, ma il GPS non lo prende perché continuerà, e per lei è sempre un allarme. Ma il suono non cambia. Cioè io da quando sono qua? Il GPS non prende, lo stalker si avvicina, il suono è sempre il medesimo? Mai sentito? Quindi un'ansia tremenda. Però non sappiamo esattamente il suono di quando si avvicina, perché nessuno di noi l'ha mai provato a sentire. Perché quando gli si è avvicinato non ha suonato. E non fanno le prove prima per vedere se il braccialetto... Allora vi spiego quello che sta accadendo. Questo apparecchio sta suonando, io l'ho sentito tipo adesso 5-6 volte suonare, pensavo fosse un telefonino acceso, invece lei aveva l'apparecchio. Suona, per cui lei si mette in ansia. Però, quando lo stalker, cioè il carnefice, le si è avvicinato, questo apparecchio non ha suonato. Non l'ha avvisata. Perché tutti questi dream dream che sentiamo, sono dei suoni... Sentite, appena stanno suonando anche adesso. Pensate l'ansia con cui vive questa ragazza. Sono dei suoni che ti dicono... Non sta funzionando la linea. Non sta funzionando il GPS. Dovrebbero mettere un allarme diverso. La stiamo cercando la linea. Voi pensate... Dovrebbero mettere almeno un allarme diverso. Ma ci rendiamo conto. Una ragazza del genere vive con un'ansia per me. Guarda, questa è una denuncia... A me non mi interessa se qualcuno si arrabbia, scusate. Questa è una denuncia che noi stiamo facendo in diretta. Io mi auguro che... No, noi l'abbiamo fatta anche davanti ai tribunali. Non c'è qualcuno che ci ascolti. Però un conto fa le tribunali, un conto fa le in televisione. Perché il gestore deve prendersi la responsabilità di verificare. Non paghiamo il gestore, perché questo è un mezzo della giustizia per le donne. Non c'è. Noi paghiamo per cosa? Per essere ammassate. Grazie, allora non ci serve, perché già due ragazze hanno rinunciato a braccialetto. E ce l'ho io con la localizzazione. Ma uno può vivere così? Dai, no. No. Questo non è possibile. Continua a suonare. Sì, io continuavo a coprirlo, ma tu lo sentivi, perché se mi sorridevi, anche tu lo sentivi totinti. Ah, io pensavo fosse il tuo telefono. No, no, è il suo GPS. E quando ti si è avvicinato, poi avete chiamato le forze dell'ordine, che ti dicono? Allora, a volte arrivano proprio le forze dell'ordine, dopo 20 minuti... Funziona loro. Dopo 20 minuti dicono... O mezz'ora. O sei ammazzata. Sì. Eh, vabbè. Quindi arriva la polizia e mi dicono che hanno ricevuto un segnale. Io dico che non l'ho ricevuto quel segnale e questo è... Ho provato a cambiarlo questo dispositivo due o tre volte e alla fine il poliziotto stesso mi ha detto, ancora non hai capito, non funzionano questi dispositivi, è inutile che lo cambia. Allora, oggi chiediamo ovviamente anche, ripeto in diretta, è giusto fare le denunce ai tribunali, però è giusto che anche noi giornalisti raccontiamo la verità delle cose e chiediamo in diretta oggi che ci sia un controllo diverso su tutte quelle che sono le assegnazioni a questi dispositivi, di questi dispositivi anche perché immagino siano gli appalti pubblici per cui sono sempre soldi dei cittadini. Sono soldi dei cittadini che vengono dati attraverso le tasse per sostenere le donne vittime di violenza. Ora ci chiediamo funzionano o non funzionano questi apparecchi e se non funzionano qualcuno se ne dovrà prendere carico, qualcuno se ne dovrà prendere responsabilità perché ci sono delle donne e non ce lo stiamo inventando, stiamo raccontando le storie attraverso queste testimonianze. Marta che nasconde il suo viso ma è giovanissima Marta, una ragazza giovanissima che ha tutto il diritto di continuare con il suo futuro, la sua serenità, la sua vita. Un'altra donna indiretta che è Sabrina che ci mette la faccia, dice io ho paura il mio braccialetto non funziona, questo continua a suonare, pensate l'ansia, qui vive una persona vittima di violenza che gli suona questo apparecchio praticamente ogni due per tre. E sono tutti così? Esattamente. Questo non va bene, questo noi oggi... Anche per Sabrina, Leonora. Oggi, io non voglio fare polemiche, io però voglio sapere oggi, voglio sapere da donna che cosa non sta funzionando con questi apparecchi. Qualcuno ci dovrà rispondere prima o poi e da oggi questa domanda noi la faremo alle istituzioni competenti. Mi auguro che qualcuno mi possa rispondere, veramente. Perché rispondere a me non vuol dire rispondere a una telecamera, vuol dire rispondere a loro che hanno bisogno di sostegno e hanno bisogno di essere protette. Questi apparecchi proteggono, non proteggono le donne. Io vi ringrazio. Ciao Bo, continuiamo. Questo io ve lo riconsegno. Però è veramente incredibile quello che abbiamo raccontato oggi. È incredibile e continua a suonare. Sta continuando a suonare. Suona senza un motivo valido. L'unico motivo è che questo apparecchio, questo strumento sta cercando la linea. Senza l'ansia. Non è possibile. Questo non è consentito. Perdonatemi, davanti alle donne che muoiono, oggi questo non è consentito. Mi prendo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo. Tutte. Mi interessa. Grazie.